Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori nel gergo calcistico. Un tempo si diceva clamoroso al Cibali, oggi potremmo dire clamoroso allo Juventus Stadium, la matricola Benevento e spugna il campo dei campioni d'Italia, ovviamente sul banco degli imputati. Ci va Andrea Pirlo e segnaliamo una clamorosa ultimora, una rivelazione del presidente Andrea Agnelli. Agnelli ha dichiarato, serve una svolta immediata, molto probabilmente Agnelli sta anticipando l'esonero di Andrea Pirlo che molto probabilmente sarà comunicato nelle prossime ore o nei prossimi giorni in casa Juve, intanto è tempo di guardare al futuro dopo una stagione a dir poco fallimentare, la Juve fuori dalla lotta per lo scudetto, fuori dalla Champions, i tifosi vorrebbero Zidane ma è probabile che per guidare la squadra per la fine del campionato ci sarà un traghettatore, annunceremo il nome. Nei prossimi giorni, ciao a tutti.